L'opportunità di poter decollare con un aereo dal Molise è stata sempre accarezzata con iniziative e propositi che poi si sono dimostrati irrealizzabili. Vediamo se il progetto aviosuperficie LC Molise 2018-2024 cambia le prospettive e diventa una realtà. Il proponente del progetto, Emilio Carosella, ci crede fermamente. Sono arrivato in Molise con una proposta e ho fatto un progetto nuovo. Tutti questi progetti, tutte queste cose, tengo a precisarle, sono state finanziate dal sottoscritto. Non c'è nessun finanziamento laterale di comuni, di province e della regione stessa. Io non ho ricevuto niente. Però con grande sacrificio e buona volontà siamo andati avanti. Adesso siamo nella fase di questo progetto di San Giuliano, nella fase definitiva, secondo il decreto legge 36 del 1 luglio, perché hanno eliminato il preliminare e si parla solo di progetto definitivo di fattibilità tecnico-economiche. Dopo ci sarà l'esecutivo. Le prospettive sono tante, veramente tante, ma soprattutto le prospettive sono per i cittadini, io dico sempre possono volare dove vogliono, Pescara, Foggia, Bari, Capodichino. Però uno si chiede, ma ci sarà la possibilità di prendere un aereo dal Molise? Cioè questa è la domanda. Io penso di sì. Magari noi all'inizio come aviosuperficie non possiamo fare da regolamento trasporto di linea, perché ce lo vieta. Ma potremo ottenere, e io sarà una battaglia che porterò avanti, che già sto portando avanti, di ottenere dei voli charter, che non sono schedulati. Quest'oggi il convegno ha aperto alle istituzioni, agli imprenditori, artigiani, albi professionali, alle organizzazioni sociali ed economiche della regione che vogliono puntare su questo progetto. Allora, come tutte le infrastrutture importanti, va fatto un bilancio, costi-benefici e valutare la fattibilità dell'opera. Noi all'interno della situazione ne apriremo una discussione per poter capire questi costi-benefici, se ci saranno. Molise ha bisogno, in linea generale, di infrastrutture, di strade, quattro corsie, due corsie, una corsia, insomma qualcosa per muoverci. E come dicevo prima, tutte le infrastrutture vanno vagliate e vanno verificate. L'area interessata è quella di San Giuliano del Sagno. L'aviosuperficie sarebbe certo una rivoluzione ed un salto di qualità per l'intera area. Speriamo che questo progetto si realizzi per la realizzazione di un aviosuperficie, che al di là della posizione e del sito individuato nel mio territorio, ha sicuramente un risvolto positivo per l'intera regione, atteso che in questa regione non esiste un aviosuperficie. Il piano dei trasporti l'aveva previsto con la delibera di giunta, ma il Consiglio regionale in due anni non è stato in grado di poterlo approvare. Io mi auguro che il prossimo Consiglio regionale lo possa approvare e iniziare questo percorso con la speranza di fare una società solida, pubblico-privata, logicamente, che possa far decollare questa aviosuperficie.